Andiamo col monopatino, andiamo col monopatino, andiamo in bicicletta, andiamo a piedi, ma abbiamo queste forze che arrivano e la nostra forza, la nostra unica vera forza, che non ce l'ha nessuno, perché vai a vedere tutte le grandi industrie anche in Giappone, in Cina, a New York, in qualsiasi posto vai a vedere chi progetta, c'è un italiano, chi progetta i software, gli algoritmi, sono gli italiani, noi siamo i numeri uno come creatività e dato che le cose, il PIN, l'età del PIN nei prossimi dieci anni sarà immateriale, cioè di creatività, possiamo fare il balzo, essere i numeri uno nel mondo e io questo ci credo e non voglio che voi rimaniate lì a essere sempre quelli, fai con culo a voi questa volta.